La CSF ha selezionato tra le aziende l'AMBEC SRL Vi leggo la motivazione Un'azienda specializzata nel settore dell'automazione industriale che si è distinta negli anni per i percorsi formativi erogati presso la CSF offrendo a centinaia di giovani l'opportunità di intraprendere con successo una carriera lavorativa in azienda leader del settore della tornitura e della fresatura Foto di video Arriva il premio per l'AMBEC Ci sono troppi fotografi Guardate quello al centro Poi dopo guardate tutti gli altri Grazie all'AMBEC e invitiamo a salire sul parco anche un'altra azienda selezionata che è Pink Panther SAS di Amendola Scimale Per l'impegno orientato allo sviluppo e alla crescita occupazionale e formativa del territorio attuato attraverso...